Ciao a tutti, io sono Claudia Petrucci, sono autrice del Cerchio Perfetto, uscito il 2 di maggio. La protagonista del Cerchio Perfetto, Irene, che è un architetto, la è specializzata nella vendita all'asta di immobili che fanno parte del patrimonio di Stato. Al picco della sua carriera, Irene accetta l'incarico di vendere una proprietà che si trova a Milano, nella sua città natale. In uno dei primi sopralluoghi in questa casa, che è molto particolare perché è una pianta circolare all'interno che è mascherata da una struttura tradizionale all'esterno, quindi quadrata, Irene incontrerà un'occupante misteriosa che scambierà all'inizio per una squatter ma si rivelerà essere molto di più. Il suo nome è Lydia, una giovane ragazza e il rapporto da queste due donne si sviluppa intricato e contrapposto a quello della storia d'amore che è il fondamento di questo edificio. Una storia d'amore che si svolge negli anni Ottanta e che si sovrapporrà, si intreccerà a quella delle nostre due principali figure femminili che si scontrano e incontrano nel Cerchio Perfetto. Io spero di poterne parlare presto con voi, di poterci confrontare su questo romanzo, spero anche di vederci molto presto in Italia. Grazie a tutti!